Un saluto da Fontest a tutti gli appassionati della telefonia. Siamo in compagnia del nostro Samsung Galaxy S2 con un ROM Deodexed, ufficiosa 4.1.2, ovvero l'aggiornamento che riceveremo o abbiamo già ricevuto, ma ampliata con una mod che porta sul nostro dispositivo delle novità molto interessanti presenti nell'aggiornamento 4.1.2 del Galaxy S3. Funzioni che a me non verranno aggiunte sul nostro Samsung Galaxy S2 con l'aggiornamento ufficiale. Innanzitutto possiamo vedere come nello sblocco ci siano ben 4 collegamenti diretti e non 3 come standard. In più potremo avere un piacevole e simpatico effetto increspatura che potremo andare ad abilitare o disabilitare nelle impostazioni di sistema e in più potremo sbloccare il nostro device con le parole Ciao Galaxy. In questo caso lui andrà direttamente nelle funzioni di S-Voice, ovvero funzioni vocali di Galaxy S3 che è stata messa al posto della standard del Galaxy S2. Sblocchiamo quindi il telefono per vedere gli altri cambiamenti. Ecco, come vediamo la status bar da grigia è diventata nera. In più l'orologio è stato portato al centro e la batteria viene visualizzata in stile Onicomb. Altro cambiamento è che nei toggle non c'è più la sincronizzazione automatica ma ci sono altri 5 toggles interessanti come il multi-windows, la modalità aereo, la stand-by intelligente, la modalità alla guida o l'abilitazione o meno delle notifiche. Andiamo a vedere una cosa che penso sia una delle più interessanti, ovvero multi-windows. All'attivazione del relativo toggles, nel lato sinistro del nostro device vedremo una linguetta trasparente la quale apre il menu relativo alle applicazioni che possiamo aprire con il multi-windows. Applicazioni modificabili, premendo modifica in fondo, che aprirà una finestra con le applicazioni che possiamo mettere nell'elenco. Da qui ci basterà scegliere una qualsiasi applicazione e spostarla sulla Home. E fare la stessa cosa con la seconda, che come vedete possiamo scegliere di metterla in alto o in basso. Come vedete lo schermo si è diviso in due e possiamo scegliere di ridimensionare una delle due, scambiarle oppure mettere a tutto schermo una delle due. Multi-windows è una funzione veramente comoda quando si vuole fare due cose contemporaneamente con semplicità e velocità, come ad esempio guardare un video su YouTube e scriverlo a una persona. Comunque multi-windows funzionerà molto bene anche ruotando lo schermo. Come vedete se io ruoto il dispositivo, il multi-windows funzionerà tranquillamente e la rotazione sarà anche molto veloce. Quindi funziona molto molto bene ed è veramente comoda. Un'altra novità è quella che dicevamo prima di S-Voice, ovvero le funzioni vocali del Galaxy S3. All'inizio cliccando due volte il tasto Home troveremo le funzioni vocali del Galaxy S2, ma andando a congelare l'applicazione con una qualsiasi app come Link2SD o Titanium Backup, al momento di premere il tasto Home due volte ci apparirà una finestra di scelta che prevederà l'uso o della ricerca vocale di Google o S-Voice. Noi abbiamo scelto come predefinito quest'ultimo anche perché la ricerca vocale la troviamo o tenendo premuto il tasto Opzioni oppure andando a tenere premuto per qualche secondo il tasto Home e andare a scegliere poi Google al centro. S-Voice funziona veramente molto bene per quel che riesce a fare, ovvero S-Voice non è ancora completamente in italiano, quindi diciamo che non è proprio comodo, però per quello che gli si chiede riesce a fare egregiamente il suo lavoro. Andiamo a vedere ora dove possiamo trovare le novità per cambiare ad esempio l'effetto inchiostro. Andremo in Impostazioni, Schermata di blocco, intanto anticipo che sono stati aumentati le modalità di sblocco come ad esempio il movimento che tenendo il dito sul display andando ad inclinare in avanti il telefono si andrà a sbloccare il telefono, oppure volto e voce. Praticamente utilizzerà la fotocamera frontale e tramite la parola scelta da noi in precedenza andremo a sbloccare il dispositivo. Nelle opzioni blocco schermo andremo a scegliere i vari collegamenti, come quelli visti prima, oppure modificare l'effetto increspatura, ovvero l'effetto inchiostro, dove potremmo toglierlo, oppure scegliere tutti i vari colori che ci sono, ce ne sono veramente tanti. Noi in questo caso abbiamo scelto Navi, ma si può veramente scegliere qualsiasi colore, ci sono veramente tutti. Un piccolo bug che abbiamo riscontrato è il fatto che con questa scelta, andando a premere salva, il dispositivo, il telefono non andrà indietro, ma per andare indietro useremo il solito tasto, uno dei tasti touch presenti in fondo al telefono. Altra novità, come quella detta prima, è che nello sblocco, se noi diciamo espressamente Ciao Galaxy, il telefono si sbloccherà e andrà in ascolto direttamente su S-Voice. Funziona comoda, ma il telefono deve stare sempre in ascolto, quindi sprecherà più batteria del solito. Carina, ma non ci gioverà praticamente a nulla. Comunque ragazzi, una ROM veramente bella, la consiglio vivamente, è super stabile e personalizzabile. Non c'è nessun bug, la velocità è veramente buona, lo scroll, internet, fotocamera, funziona veramente, veramente tutto. Secondo me è anche una buona modifica, soprattutto perché aggiunge queste funzioni dell'S3 che in assenza di questa mod noi non potremmo avere. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti gli amici di Award. Cosa è successo? Vaffanculo! Ah, ti credo, l'avrò acceso e spento 50 volte questa applicazione, adesso non mi va più. Porca puttana! Porco di un cane... Ma ma qua va vaffanculo. Di meno, anzi, bisogna ammettere che... Ma perché mi va su scuola, porco di un cane? Ah, io c'ho maldito. Salve ragazzi, benvenuti a tutti in questa nuova video recensione. Oggi sono in compagnia del Samsung Galaxy S Advance. Vi do subito qualche caratteristica tecnica sul telefono. Ah, sul telefono di cosa? Devo dire, vi do qualche caratteristica tecnica... Qui taglio, ovviamente. E... aspetta, ci sono. Un attimo, arrivo. Versa, Samsung Galaxy Tab 2 è un'interfaccia touchwits di Samsung con delle personalizzazioni molto simili a quelle che si hanno su Samsung Galaxy S3 e compagnia. Sto facendo un video! Porca troia!